Non si è ancora trovato il nome ufficiale per la candidatura del centrodestra, presidente della regione, spunta al simbolo della lista che avrebbe dovuto chiudere la partita. A Pazzardella una donna rapinata riconosce il suo aggressore grazie a Facebook, il social finito nell'occhio del ciclone per il furto dei dati. I commissari dei concorsi della scuola tendono di essere pagati da due anni, la CISL li invita a rivolgersi agli avvocati. La struttura frulana per l'assistenza e la cura delle donne colpite dal tumore al seno è addirittura d'arrivo per giugno a Udina. Di ritorno dalla Repubblica Ceca dove ha ricevuto il premio come miglior giovane, Iancto precisa alcune dichiarazioni malinterpretate, concentrato sull'udinese. Buonasera a tutti, bentrovati all'appuntamento serale con il TG di Udine News TV. Tra poco tutte le notizie di oggi, alcune ve le abbiamo anticipate nei titoli, insomma c'è l'infinita telenovela sul nome del candidato del centrodestra alle prossime regionali, parleremo di questo, di tutt'altro, dei social, del duplice ruolo di Facebook, tanta cronaca, tutto in compagnia di Davide Zanirato. Buonasera Davide. Buonasera Giorgia. Ma prima c'è lo sport, c'è l'udinese con una pagina ricca di contributi importanti. Questa sera, allora, saluto Maurizio Ferrari. Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. È una pagina che apriamo con le dichiarazioni di Jacopo Biancto, che è tornato dal nazionale per un problema fisico, ma soprattutto è tornato per smentire tutta una serie di voci che erano trappelate nel pomeriggio in merito ad alcune dichiarazioni che ha rilasciato il talento cieco. Lo andiamo a sentire al microfono di Francesco Pezzella. È venuto fuori un casino, ma non capisco perché. Perché io stavo parlando in conferenza stampa con i giornalisti e praticamente loro hanno preso una frase e poi hanno preso tutti i giornalisti italiani. Purtroppo hanno scritto quello che hanno scritto, ma io non ho detto così. Ho detto che sono molto molto contento in udinese perché sto giocando tutto titolare in 21-22 anni. Per me è incredibile. Sono felice, davvero felice. E niente, sono qui 4 anni. Se vorrei scappare avrei fatto 3-3 anni fa, quindi non capisco quello che mi scrive la gente. Ma comunque io sempre dicevo che voglio fare massimo con l'Udinese e penso che anche sto facendo. Sì, nonostante i risultati, le ultime 5 partite abbiamo perso, però andiamo avanti. Non dobbiamo fare niente. Sicuramente io non sono quello che mola. Un problema fisico ti impedisce di essere quella nazionale. Intanto ti chiediamo come stai, se hai entrato qui a Udine per iniziare le cure. Sì, purtroppo sono rientrato qui nel senso che sono infortunato che purtroppo non riesco a giocare con la nazionale perché c'è un problema fisico. Ho preso una botte fortissima e purtroppo sono fuori di quella nazionale. Però guardo avanti, voglio recuperare il più presto possibile e fare massimo. Hai ricevuto un bel attestato di stima, un premio da parte dei tuoi connazionali. Si starò giudicato il talento del 2017. Quindi importante riconoscimento per quello che stai facendo vedere. Sì, sicuramente è un risultato di tutto l'anno 2017. Quindi sono molto molto contento per me, anche per tutta la nazionale, per tutta la famiglia perché quando ero bambino era un sogno vincere qualche premio individuale. Adesso sono rientrato, mancano gli ultimi due mesi e sicuramente voglio fare il massimo in questi colori perché sappiamo tutti che le ultime cinque partite, a parte di Sassuolo che nonostante penso che abbiamo giocato bene, purtroppo abbiamo perso tutto quanto che non va bene. Quindi dobbiamo votare la pagina e iniziare a ottenere i punti. Quindi possiamo rassicurare i tifosi la tua concentrazione, ma questo non lo sapevamo ovviamente, ma diciamolo ai tifosi, possiamo rassicurare la tua concentrazione è tutta sull'Udinese. Sì, assolutamente, ho sempre fatto massimo con l'Udinese e sempre farò, sempre e comunque. Queste le parole di Cuba Iancto, che ovviamente non ha partecipato alla seduta di allenamento di quest'oggi. La ripresa dell'Udinese che si è tenuta nel corso del pomeriggio ha visto ovviamente un rango decisamente ridotto di elementi a disposizione di Mister Massimo Oddo, considerando che Iancto è partito per la nazionale ma è tornato subito per l'infortunio, mentre gli altri disputeranno i loro match internazionali. Sono una decina i giocatori impegnati in giro per il mondo. Per gli altri invece già al lavoro con vista in particolare su quella che sarà l'amichevole di venerdì con il Dom Giale, preparazione volta al prossimo match contro l'Atalanta. Ci racconta tutto Stefano Giovampietro. Ripresa degli allenamenti in questo martedì per la squadra di Massimo Oddo che si è regata al centro sportivo di Nobruseschi sotto un sole molto intenso ma un vento altrettanto forte che ha sversato il centro sportivo bianconero. Una seduta di ripresa dopo quella che è stata la quinta sconfitta consecutiva contro il Sassuolo. Un gruppo praticamente dimezzato quasi dalle tante assenze dei nazionali che sono in giro per le loro rispettive selezioni tra cui anche Jacubi Ancto ma un trauma contusivo al vasto laterale della coscia destra lo farà rientrare immediatamente a Udine. Questa è la scelta comunque concordata tra gli staff medici della nazionale cieca e dell'udinese. Il giocatore rientrerà nella serata di oggi e si farà poi visitare nella giornata di domani avremo ulteriori approfondimenti di quello che è il suo infortunio per vedere se ci saranno possibilità di recupero in vista dell'Atalanta. Chi recupererà senza dubbio è Sekofofanà che è già in gruppo si sta allenando in maniera anche molto intensa nulla di preoccupante quello che gli ha fatto terminare prematuramente la partita contro il Sassuolo dopo il suo secondo gol in campionato. Altra buona notizia, non ancora buonissima, non è in gruppo Kevin Lasagna ma stringe i denti, mette nel mirino la partita contro l'Atalanta oggi per lui seduta personalizzata sul campo 4 anche con carichi di lavoro abbastanza intensi tocco del pallone, passaggi e tutto quello che è il preludio al rientro in gruppo dell'attaccante ex Carpi non si sono invece visti sul campo né Albano Bisarri né Gabriele Angela che hanno svolto una seduta personalizzata per il resto c'è comunque tanta voglia di tornare a lavorare i nazionali che rientreranno nella prossima settimana di lavoro ma nel frattempo chi è rimasto più a Udine darà il massimo impegno per convincere Oddo e per avere perché no anche una maglia da titolare nella prossima delicata sfida di Bergamo contro i nerazzurri di Gasperini che sono reduci da una strepitosa vittoria 5-0 molto ruboante nel risultato contro l'Ellas Verona che sono rientrati pienamente in corsa per riconquistare l'Europa League vorranno farlo affrontando proprio l'Udinese in una gara che sarà molto dedicata sia da una parte che dall'altra con gli allenamenti che continueranno per tutta questa settimana prima della partita amichevole di venerdì tra appunto l'Udinese e il Domzale Allora dalle immagini registrate questo pomeriggio in cui avete visto anche un Kevin Lasagna che intensifica il suo lavoro sul campo numero 4 seppur non in gruppo è comunque una buona notizia ci colleghiamo invece adesso live con Stefano che è per noi a seguire l'evento l'incontro con gli allenatori al Bearzi che vede il protagonista proprio mister Massimo Oddo Linea a te Stefano Sì sì siamo qui dall'Istituto Salesiano Bearzi a Udine dove è appena arrivato da pochissimo Massimo Oddo che parteciperà a questo evento organizzato dall'Associazione Italiana allenatori di calcio del Friuli Venezia Giulia che si sono recati qui in gran numero per ascoltare quelle che sono le nozioni di calcio di Oddo di uno di questi ragazzi che ce l'ha fatta ovviamente alla luce anche di una carriera molto molto buona e piena di vittorie da calciatore oggi dirà quella che è la sua esperienza quelli che sono anche i suoi segreti da allenatore lo abbiamo intercettato poco prima di scendere prendersi l'applauso e iniziare questo convegno Massimo Oddo che come dicevi tu ha parlato anche della situazione legata a Lasagna ma più che dei singoli si è concentrato su lavorare sulla mentalità, sentiamo Mi fa sempre piacere incontrare quelli che hanno un sogno che è stato il tuo quello di diventare allenatori di un certo livello quindi è bene secondo me condividere con tutte queste persone le idee di calcio poi ovviamente non tutti saranno d'accordo perché non tutti sono uguali però è bello condividere e è bello anche sentire loro il loro punto di vista Come è stato oggi rientrare al lavoro? Purtroppo si è arrivati alla sosta con questo filotto di sconfitte bisogna aspettare due settimane per tornare in campo Aspetteremo, lavoreremo nel calcio ci sono momenti positivi e negativi l'importante è reagire e mettere sempre più impegno io conosco un'unica via per uscire dai momenti difficili che è il lavoro e quindi noi lavoreremo da qui alla prossima partita per cercare di mettere a posto tutte le cose che non sono andate bene Ovviamente ci saranno sei partite in venti giorni e sarà un bel tour de force per il ragionamento che preparrà a pensare partita per partita quindi un'Atalanta che tra l'altro si è ripresa alla grande Sì sì ma partendo dal presupposto che le partite sono tutte difficili in questo momento l'errore più grande sarebbe pensare alle cose negative le cose negative sono i gol subiti le cose negative sono gli errori che facciamo in campo le cose negative sono il filotto di cinque sconfitte consecutive o il calendario difficile che ci sarà noi dobbiamo pensare come hai detto tu di partita in partita cercando di migliorare quelli che sono i nostri difetti di ritrovare quello che in questo momento ci manca e quello che ci ha dato una marcia in più cioè quello spirito di squadra quella compattezza quel furor agonistico quella grinta che ultimamente probabilmente involontariamente è venuta meno e quindi dobbiamo lavorare tanto sotto quel punto di vista e se noi recupereremo questo aspetto sicuramente non ci saranno problemi Oggi Lasagna ha intensificato un po' i carichi anche se ancora personalizzato l'obiettivo è riaverlo a Bergamo e sarebbe un rientro molto importante Sì Sarebbe molto più importante recuperare tutte quelle caratteristiche di cui ho appena parlato più che dei singoli Quindi sarebbe importante recuperare la forma mentale più che quella fisica in questa sosta? Sì, in questo momento credo che l'aspetto mentale sia determinante bisogna cercare di trasmettere a questi ragazzi tutto quello che hanno avuto fino a qualche tempo fa perché ultimamente oggettivamente qualcosa abbiamo perso sicuramente non è una cosa volontaria è una cosa che fa parte anche di un certo tipo di percorso di crescita e questo aspetta all'allenatore, allo staff recuperare questi stimoli perché sono importanti e perché se ci sono questi stimoli noi facciamo bene come abbiamo sempre fatto E' un nodo che quindi indica la strada che è quella del lavoro seguiremo anche quello che è il suo convegno e poi vi riproporremo le emozioni di questa serata all'Istituto Bearzi e da qui è tutto Linea che può tornare a te allo studio Maurizio Grazie Stefano e Linea che passa immediatamente alla cronaca torneremo più tardi invece per le notizie di Casa Pordenone alla vigilia dell'importante derby con la Triestina Grazie Maurizio e noi apriamo con la politica David, dimmi che possiamo finalmente dire il nome ufficiale del candidato del centrodestra alle regionali? Purtroppo no Purtroppo no, nemmeno stasera e quindi vi diamo gli aggiornamenti di quella che sta diventando una storia infinita Tutti aspettano l'ora X fissata secondo molti per oggi il nome del candidato presidente del centrodestra per le elezioni regionali dovrebbe uscire da un'ultima delicata trattativa in corso proprio mentre andiamo in onda il tempo ormai poco tra l'altro la raccolta delle firme è valida solo se porta in testa il nome del candidato presidente con tutto quel che ne consegue Noi avevamo cominciato la raccolta dice Franco Baritussio di Fratelli d'Italia con il nome di Tondo poi ci siamo fermati colpa di una normativa estremamente penalizzante che aggiunge una difficoltà tecnico-politica a una vicenda che ha visto il casting di una quindicina di candidati presidente per poi concludersi con un ultimo ulteriore rinvio quello chiesto si fa per dire da Salvini alla base leghista che premeva per Fedriga candidato Gli scenari possibili comunque sarebbero la conferma di Tondo il clamoroso ritorno di Riccardi con una sorta di sconfessione di Fedriga dopo il risultato delle politiche lo stesso Fedriga usato come ritorsione nei confronti di Forza Italia nel caso la Lega non ottenesse la presidenza della Camera Gli indizi che arrivano del mondo del web sono tanti tasselli anche stasera Giorgia che dobbiamo un po' attaccare per cercare di capirne di più per esempio partiamo dal sito termometro politico che vedete in prima pagina lega insiste per Fedriga candidato perché appunto dopo l'incontro di ieri sera a Udine di Salvini la Lega e soprattutto i suoi militanti hanno cercato di far capire al segretario del Carroccio che o Fedriga o nessun altro e quindi si continua a puntare sul fronte leghista sul nome del segretario regionale del Carroccio nel frattempo Forza Italia lo vediamo assieme oggi ha presentato i moduli per la raccolta delle firme e nei moduli c'è il logo il simbolo di Forza Italia con Berlusconi per Renzo Tondo e quindi insomma si certifica la decisione di Forza Italia sul nome di Tondo ma pare non tutta Forza Italia perché alcuni settori potrebbero ancora continuare a lavorare come abbiamo sentito nel servizio per cercare un candidato alternativo facciamo anche un ulteriore giro sui social per capire un po' che aria tira per esempio sul blog di Leonardo Zzi viene citato il manicomio centrodestra uno sbrego ciclopico per quanto riguarda Forza Italia che si spacca senza candidati e tra l'altro c'è anche la dichiarazione della vice segretaria della Lega Giorgetti che dice non è ancora finita la partita la Lega continua a lavorare per Fedriga oppure sono i militanti che iniziano anche a ipotizzare una scelta per Cecotti e per quanto riguarda Udine Today nell'attesa appunto di dirimere il nome del candidato si inizia anche a mettere un po' in fila le varie dichiarazioni tutti esaltano l'autonomia della nostra regione lo statuto speciale però poi nelle dichiarazioni vediamo appunto che questa autonomia dichiarata più volte negli anni scorsi non fa il paio con quanto sta accadendo ovvero si attende tutte le decisioni da parte dei vertici romani dei partiti tra le tante voci che sono circolate quest'oggi è anche un'ipotesi di scelta per tagliare la testa del toro tra Lega e Forza Italia tra i nomi in campo tra Tondo e Fedriga quello di Renato Carlantonio l'ex sindaco di Tarvisio che è già ormai candidato per Forza Italia come consigliere regionale ma alcuni hanno avanzato il suo nome come possibile candidato presidente abbiamo fatto un giro sulla pagina Facebook di Carlantonio lo vediamo con la sua nuova foto forse fatta proprio per i santini elettorali per l'occasione per l'occasione stile Frank Underwood di House of Cards ma al momento gli aggiornamenti non danno ulteriori novità e quindi per il momento questo è il quadro ancora molto caotico va bene non possiamo far altro che tenervi ovviamente aggiornati sempre nei nostri appuntamenti con l'informazione ma il 29 aprile prossimo non si vota solo per la regione e per il comune di Udine ma anche per altre 18 amministrazioni locali che in parte stanno risentendo delle tensioni interne del centro-destra il punto nel servizio di Luciano Edelfonso non sono elezioni regionali o amministrative a Udine il prossimo 29 aprile in Feruli Venezia Giulia si voterà in altri 18 comuni che eleggeranno il nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale l'appuntamento con le urne vedrà impegnati i cittadini di Faedis Fiumicello Villa Vicentina Forgaria nel Friuli Gemona Martignacco San Daniele San Giorgio di Nogaro Talmasson Streppo Eligo Zullo Nell'Isontino Affogliano Redi Puglia mentre nel Pordenonese Brugnera Fiume Veneto Polcenigo San Giorgio della Rinkinvelda Sequals Spilimbergo ed infine Zoppola A Udine e Sacile nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati alla carica di sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi si andrà al ballottaggio tra i due candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti validi il 13 di maggio A San Daniele del Friuli sarà corsa a quattro in Lizza secondo le ultime indiscrezioni l'uscente Paolo Menis in rappresentanza del centro-sinistra Pietro Valent per Lega Nord Autonomia Responsabile supportato anche da Fratelli d'Italia Gabriele Turissini forse per una fetta del centro-destra che è ancora a caccia del suo candidato dopo la rinuncia per motivi di lavoro di Bagatto infine Francesco De Cleva candidato indipendente dopo screzzi con il partito del Carroccio A Gemone del Friuli ad ereditare il testimone di Paolo Rubani c'è Roberto Revelant già consigliere regionale mentre il centro-sinistra sta valutando diversi nomi tra cui quello dell'ex vice-sindaco Adalgisa Londero a San Giorgio di Nogaro il centro-sinistra già le idee chiare schiera in campo il giovane Davide Bonetto mentre è confermata la partecipazione di Roberto Mattiussi per il centro-destra e Daniele Salvador appoggiato da una civica a Martignacco la sfida si preannuncia a tre in campo Katia Pagnutti supportata dal centro-destra Gianluca Casali collega una lista civica e la mina vagante Massimiliano Venuti che scioglierà le riserve nelle prossime ore a Sacili in campo Gottardo Junior è spagnola a causa della scissione interna al centro-destra mentre si attende ancora l'ufficialità per il centro-sinistra infine a Spilimbergo la corsa è tra Marco Dreosto Enrico Sarcinelli e Jacopo Sedran per i 5 Stelle ancora web Davide si Giorgia avete sentito dunque l'elenco per quanto riguarda i comuni al voto oltre alla copologo Frulano Udine che tra l'altro oggi ha visto anche l'aggiungersi la conferma della giunta di un settimo candidato sindaco ovvero Luca Minestrelli per Casa Pound dicevamo la raccolta di firme era citata anche nel servizio precedente in questo fine settimana scade per le regionali mentre ci sarà ancora un giorno in più per quanto riguarda proprio le comunali per quanto riguarda invece ancora le elezioni regionali il centro-sinistra in questo caso ne avevamo parlato nei giorni scorsi questi tentativi di allargare un po' la raggio d'azione della coalizione di Sergio Bolzonella oggi c'è stato l'incontro vediamo assieme una nota del Partito Democratico l'incontro con Sergio Cecotti e non deve essere andata troppo bene perché appunto Salvatore Spitaleri che è il segretario regionale del PD dice è stato un incontro cordiale abbiamo condiviso la preoccupazione per il futuro della nostra specialità però rimangono le distanze tra PD e patto per l'autonomia sulle linee programmatiche e sugli specifici temi rimane appunto questa lontananza nelle prossime settimane di campagna elettorale conclude Spitaleri avremo quindi modo di confrontarci sulle proposte per il Friuli Venezia Giulia ma da posizioni diverse parliamo ora del mondo dei social in particolare di Facebook di quelli che possono essere i lati positivi e i risvolti negativi cominciamo dai lati positivi di questo social network e per farlo vi raccontiamo un fatto di cronaca una donna una donna di Basaldella che è stata rapinata vicino a casa e proprio su Facebook ha riconosciuto il ladro queste ed altre notizie di giornata nelle pillole a cura di Luciane Delfonso Grave incidente sugli sci questa mattina intorno alle 11 a Sala Nevea una coppia di coniugi provenienti dalla Repubblica Ceca per causa ancora invia di accertamento è entrata in collisione mentre scendeva sulla pista conosciuta come Canin Turistica nell'impatto la donna classe 49 ha riportato un trauma cranico e la lussazione della spalla mentre l'uomo classe 46 è rimasto illeso nonostante l'accaduto la donna non è in pericolo di vita sul posto polizia di stato e 118 autocarro rovesciato a Spilimbergo in piazza San Rocco mentre scaricava con la sua gru un bobcat il fatto è avvenuto questa mattina e le cause del ribaltamento sono dovute ad una rottura meccanica probabilmente del pistone di sollevamento dell'autocarro rovesciato sul posto i vigili del fuoco di Spilimbergo con una squadra l'autogru della centrale di Pordenone e una ditta privata incastrato da delle immagini Facebook i carabinieri della liquota operativa della compagnia di Udine sono riusciti a scovare il responsabile del furto di via San Sebastiano grazie ad alcune fotografie postate sul social l'uomo è stato identificato e denunciato a piede libero per il furto messo a segno ai danni di una donna che si era arrecata precedentemente al bingo di Viale Palmanova ed ora quelli che invece possono essere i rischi di Facebook ovvero l'uso che viene fatto dei nostri dati sensibili a questo proposito il crollo in borsa di Facebook che fa seguito al furto di 50 milioni di profili rubati da una società inglese utilizzati per la Brexit e la campagna elettorale di Trump ha portato proprio all'attenzione la questione relativa al possesso dei nostri dati ne abbiamo parlato con il professor Paolo Coppola Onorevole Coppola è mai esistita la sicurezza informatica? La sicurezza informatica è molto difficile bisogna stare sempre attenti è uno dei settori più complicati che cambiano più velocemente dove c'è bisogno di più esperienza e di persone estremamente in gamba in Italia purtroppo è uno dei problemi più grossi dal punto di vista del digitale che abbiamo Il caso Facebook mette in luce una questione molto grave che è quella dei grandi fratelli non uno solo ma molti grandi fratelli che possono condizionare qualsiasi nostra scelta Sì questo sta cambiando molto i social media stanno cambiando il mondo del condizionamento quello che è successo con il caso Facebook in realtà ha messo in evidenza che una società esterna a Facebook usava Cambridge Analytics ma non è l'unica ce ne sono molti che usano questi dati per cercare di condizionare le persone dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista commerciale iniziano con quello ma il problema più grosso è che Facebook ha tutti questi dati e Google ha tutti questi dati questi sono problemi enormi che andrebbero trattati a livello internazionale e purtroppo anche in questo caso servirebbero persone molto competenti su questi temi e scarseggiano in Italia dove ci porterà questo impasto malefico di social psicologia di massa intelligenza artificiale insomma siamo nelle mani del futuro ma è un futuro piuttosto fosco no no il futuro come tutte le cose vanno costruito quindi può essere un futuro che porta a benessere o meno dipende da come viene appunto gestito bisogna attrezzarsi con l'unica arma possibile che è quella della cultura studiare approfondire puntare sulle competenze sull'istruzione sull'educazione è l'unico modo per diciamo combattere i lati negativi di questa cosa torniamo sul caso Giulio Reggeni sì Giorgia siamo sul sito dell'ANSA perché sono tornati a parlare i genitori di Giulio con un intervento durante un incontro pubblico e il loro nuovo grido è siamo stati abbandonati il padre ha sottolineato combattiamo per Giulio ma anche per tutti quelli che possono trovarsi in situazioni simili a quelle che lui ha vissute vedete nell'immagine la mamma di Giulio Paola Defendi l'avvocato difensore della famiglia Alessandra Ballerini ha ricostruito i depistaggi e la vicenda con la storia appunto del corpo di Giulio che parla da solo e si difende da solo siamo arrivati a nove nomi dalle forze di polizia implicati il sostituto procuratore della corte d'appello Zucca tra i giudici del processo Diaz ha detto che l'11 settembre 2001 il G8 hanno segnato una rottura nella tutela dei diritti internazionali al dibattito sono intervenuti anche altri esponenti della magistratura e dunque si è elevato il grido collettivo ancora verità per Giulio Regeni Cambiamo argomento i commissari dei concorsi nella scuola tendono di essere pagati da due anni la CISL li invita a rivolgersi agli avvocati il punto sulle criticità nel mondo della scuola regionale durante l'incontro promosso oggi con la segretaria nazionale GISI e poi senza sblocco delle nomine il prossimo anno ben 70 scuole si ritroveranno senza dirigente la criticità più grande è dare la tranquillità come ho detto prima alle scuole questo come lo dai la dai dando l'organico giusto e i dirigenti scolastici titolari perché noi abbiamo una grandissima difficoltà e il prossimo anno ci saranno 70 istituzioni scolastiche in Friuli in Seggiulia senza dirigente scolastico e 33 34 fino a forse 36 istituzioni scolastiche senza direttore dei servizi amministrativi è una cosa inqualificabile in una regione che ha offre un'offerta formativa di qualità come il Friuli in Seggiulia abbiamo ancora difficoltà per quanto riguarda i concorsi delle scuole dell'infanzia anzi invito tutti i commissari del vecchio concorso a rivolgersi presso gli avvocati al fine di che vengano retribuiti perché questi chi ha fatto il commissario nella scuola primaria lo scorso due anni fa non è stato ancora retribuito anche qua è un'indecenza quindi i concorsi spero che vengano portati a termine e spero che quello dei docenti venga portato a termine al governo che verrà se verrà un governo quale dovrà essere il punto principale sull'agenda politica uno cominciare finanziando il rinnovo contrattuale subito legge di bilancio c'è la bisogno di coprire quello che oggi è già inserito in questa retribuzione che abbiamo sottoscritto il 9 di febbraio e poi cominciare a pensare anche a come riconoscere il tanto lavoro che nella scuola viene realizzato quindi un governo che deve attenzionare la scuola e basta con riforme sì riforme no abroghiamo sì abroghiamo no non abbiamo bisogno di altre manovre legislative abbiamo bisogno di tranquillità quali sono i settori o i percorsi di studio più promettenti per un giovane in regione e quanto può ancora rappresentare un valore aggiunto la laurea abbiamo chiesto un commento ad Alessandro Russo ricercatore di Ires Friuli Venezia Giulia la domanda che si pongono molti giovani e genitori è paga ancora la laurea? sì in generale possiamo dire di sì però sappiamo che nel nostro paese c'è un problema delle lauree umanistiche soprattutto che spesso non trovano sbocco e quindi magari sono poco tarate rispetto alla domanda che proviene dalle imprese diciamo poi che in questi ultimi anni si sono sviluppati dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore i cosiddetti IFTS a regia regionale gli ITS invece che hanno dei programmi insomma degli ambiti di sviluppo invece definiti a livello nazionale che possono durare un anno due anni e prevedono un minimo un 30% di ore di stagio in azienda quindi c'è un collegamento molto forte col mondo del lavoro e addirittura per quanto riguarda gli ITS quelli che durano due anni ci sono almeno il 50% dei docenti che vengono dalle imprese e qui abbiamo dei tassi di occupazione al termine dei percorsi informativi molto elevati quindi stanno diventando quasi concorrenziali rispetto all'università stavo pensando per esempio all'informatica è uno sicuramente degli ambiti dove addirittura le imprese non riescono a trovare i laureati o anche i diplomati in questi percorsi perché ce ne sono pochi i settori più promettenti se guardiamo in prospettiva sicuramente la nostra regione in questi anni ha visto uno sviluppo della cantieristica navale molto importante sappiamo che Fincantieri ha per i prossimi 10 anni commesse pronte quindi sicuramente per quanto riguarda soprattutto la Venezia Giulia la provincia di Udine ma poi con l'indotto un po' con tutta la regione questo è un settore particolarmente importante poi abbiamo parlato prima dell'informatica la meccanica quello è sempre uno dei settori portanti mi penso soprattutto la provincia di Udine e Pordenone e poi sta andando bene in questi anni visto che è un'altra nostra specializzazione tradizionale il mobile l'arredo qui più la provincia di Pordenone rispetto a quella di Udine ieri vi abbiamo raccontato l'inaugurazione del polo intermodale di Ronchi oggi i pendolari regionali hanno cominciato a trovare qualche difficoltà i regionali arrivano prima delle frecce e costano di meno da Udine mancano le coincidenze con i voli del mattino mentre per i parcheggi delle auto si criticano i costi troppo esosi dei ticket premetto che l'inaugurazione del polo intermodale è una vera conquista per Friulenza Giulia in quanto veramente l'intermodalità treno bus e aeroporto ovviamente è qualcosa che rende Friulenza Giulia un'eccellenza ci sono alcune criticità perché purtroppo è mancata un po' di programmazione da parte della regione noi riteniamo nel senso che si è voluto inaugurare il polo intermodale la nuova stazione dei treni lasciando però invariati quali erano gli orari in questo momento Udine e la bassa Friulana la mattina soprattutto risulta impossibilitata a raggiungere in tempo utile l'aeroporto di Trieste e Airport per i primi due voli mattutini verso Roma Fiumicino e verso Monaco sul fronte invece dei tempi di percorrenza i treni regionali sono più veloci delle frecce in questo caso quindi Venezia Trieste ha un tempo di percorrenza di un'ora e ventitré circa mentre una freccia rossa sta anche un'ora e venticinque i costi ovviamente non sono gli stessi perché si va dal 9.55 del regionale ai 22 euro ovviamente della freccia idem anche sulle spostamenti a Spola diciamo dall'aeroporto a Trieste dove i regionali perfino guadagnano due minuti rispetto alle frecce a proposito di costi anche per quanto riguarda il parcheggio qualche segnalazione la fate gli utenti di Trenitalia potranno beneficiare di un abbonamento di 28 euro mensile per il parcheggio mentre invece i prezzi previsti per gli abbonamenti diciamo liberi sono di circa 7 euro al giorno il che ovviamente è un disincentivo ad utilizzare il parcheggio come l'intermodalità treno e volo pensiamo che in questa prima fase forse era più opportuno pensare delle tariffe promozionali tipo 1 euro al giorno per tutti per agevolare l'afflusso degli utenti sulla nuova stazione dei ronchi dei legionari che ricordo era stata abbandonata nel 2003 proprio per la scarsa utenza e la scarsa presenza di utenti ferroviari parliamo ora della breast unit dell'ospedale di udine struttura volta all'assistenza e cura delle donne colpite dal tumore al seno un centro di cui si attende da anni la piena operatività toalmente vi figurano due chirurghi dipendenti dell'azienda sanitaria e due borsiste il direttore generale dell'endi si è impegnato ad avviarla ufficialmente entro giugno confida di avviare ufficialmente entro giugno la breast unit il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria integrata di udine una struttura volta all'assistenza e cura delle persone colpite dal tumore al seno le stime in regione parlano di una donna su otto che prevede un team multidisciplinare di esperti e di cui si attende da anni la piena operatività attualmente vi figurano due chirurghi dipendenti dell'azienda sanitaria e due borsiste a una delle quali è stato appena consegnato il finanziamento istituito dall'associazione Andos per la piena operatività è necessaria l'approvazione del piano aziendale manca poco perché ormai siamo in fase di approvazione definitiva dell'atto aziendale che prevede una struttura dedicata alla chirurgia senologica ovviamente la breast unit non è solo chirurgia io confido di fare di avviarla entro giugno in merito invece agli altrettanto attesi lavori per il centro residenziale cure palliative previsto al primo piano del padiglione 9 la progettazione sta andando avanti ci sono stati tutti i passi necessari da parte della regione della direzione centrale per la definizione del finanziamento quindi adesso stiamo andando avanti appunto con la progettazione contiamo di rispettare i tempi in linea di massima non so se ce la faremo entro l'anno ma insomma un paio di mesi in più probabilmente si è parlato di 15 mesi complessivi per l'avvio della struttura forse anche meno i lavori quando si prevede l'avvio potrebbero partire nel giro di 2-3 mesi chiudiamo in musica si Giorgia un appuntamento che arriva a rinforzare ulteriormente il grande elenco di appuntamenti per Lignano Fabri Fibra la star del rap italiano annuncia il suo live estivo le vacanze tour a Lignano Sabbiadolo il 28 luglio all'Arena Alpeal le vedete su azalea.it tutte le informazioni utili perfetto torniamo a parlare di sport avrà sicuramente del ritmo non so se il ritmo di Fabri Fibra ma più o meno quello la sfida che ci attende domani sera almeno il secondo tempo della gara d'andata fu davvero scoppiettante parliamo del derby che si terrà tra Triestina e Pordenone per approfondire questo argomento in una partita così sentita e così importante per i Neroverdi dopo il ritorno successo in casa con la Fermana sentiamo le parole del tecnico Fabio Rossitto sempre una partita speciale c'è anche voglia un po' di così di rivincita dopo l'andata perché è stata una partita insomma dove c'è stato un passivo pesante però siamo consapevoli in questo momento di star bene di mettere in campo le nostre forze sicuramente ci sarà qualche giocatore nuovo perché abbiamo bisogno sicuramente di forze fresche però sono tutti pronti determinati ci siamo preparati alla battaglia e vogliamo andare a fare una bella figura una squadra che comunque ha giocatori esperti soprattutto dalla metà campo in avanti ha giocatori forti fisicamente è una squadra che soprattutto in casa è tosta però credo mensa vabbè arma questi giocatori qua sono importanti sappiamo li conosciamo però senza stare a guardare troppo loro pensiamo a quello che dobbiamo fare noi cercando di avere una grossa determinazione una grossa cattiva e agonistica e poi ci andiamo a giocare la nostra partita sarà una partita serale insomma lo stadio è bello ci voglia di calcio è importante è un derby che affascina ma e noi vogliamo fare bella figura tutti sono pronti sicuramente speriamo sia una bella partita e che il risultato sia da parte nostra e vedremo allora come andrà Trieste intanto chiudiamo la pagina sportiva di questa sera è la linea che torna a voi grazie Maurizio grazie anche a te David e a te Giorgio e a voi per averci seguito buon proseguimento di serata grazie a te Giorgio